In diretta via satellite, 257 canali, sottotitoli per i non udenti e Dolby Stereo Ove disponibile, ovvero qui, eccolo a voi! Che bella immagine, Phil! È perfetta! Non lo so, sembra un po' disturbato. Fammi provare una cosa. Per l'amor del cielo, Phil! Forse se diminuisco la luminosità... No, no, è il colore, il colore della pelle è sballato, è tutto sballato.